Benvenuto su Febbre da Gossip. Ti invitiamo gentilmente a iscriverti al nostro canale e attivare la campanellina per ricevere le ultime notizie. Se i nostri contenuti ti piacciono, ti chiediamo di lasciare un mi piace e di condividere i tuoi pensieri nei commenti. In più, se vorrai, puoi anche farci una piccola donazione attraverso un super grazie, che trovi sotto il video. Il tuo sostegno è di fondamentale importanza per la crescita del nostro canale. E per questo ti ringraziamo sinceramente. Nella sfera musicale italiana, abbiamo recentemente detto addio a Toto Cutugno, uno degli illustri padri della musica italiana e un'icona nel mondo dei cantautori. La sua dipartita è avvenuta il pomeriggio del 22 agosto. Come spesso accade nel settore musicale, soprattutto quando si parla di artisti di grande popolarità, le cifre legate al loro reddito e patrimonio restano a volte nel mistero. Non è diverso nel caso di Toto Cutugno. Tuttavia, dato il successo straordinario della sua carriera, con la vendita di oltre 100 milioni di album in tutto il mondo, è ragionevole presumere che il suo patrimonio non sia affatto trascurabile. L'interrogativo che rimane aperto riguarda la suddivisione dei suoi averi. Auspichiamo che gli eredi possano affrontare questa fase senza attriti o incomprensioni, preservando così l'eredità di Cutugno in armonia. In conclusione, le stime suggeriscono che il patrimonio netto del cantautore potrebbe ammontare a circa 5 milioni di dollari. Ti ringraziamo per averci seguito e ti invitiamo a restare sintonizzato per il prossimo video. Non mancare!